La squadra sicuramente ha una grande voglia, è super motivata. Questa volta abbiamo lavorato anche un po' di più perché abbiamo anticipato il ritiro grazie alla sosta del campionato, quindi i giocatori che militano nelle squadre italiane hanno potuto fare un surplus di allenamento e arriviamo ben preparati. Conosciamo anche gli avversari, anche se ci sono dei nuovi giocatori, molto giovani, per cui abbiamo fatto un po' fatica a recuperare le loro azioni individuali, ma diciamo che possiamo dire di conoscere bene il gioco. In effetti c'è da dire che la nostra squadra è ancora più giovane dei loro giovani, per cui noi, come al solito, facciamo conto sull'entusiasmo, sulla velocità. Abbiamo un sistema di rotazioni che per quanto riguarda soprattutto il primo tempo lascia spazio a tutti e cerchiamo di tenere sempre un ritmo alto. Poi vediamo partita per partita, soprattutto momento per momento, se vale la pena o se c'è da cambiare strategia. È un giocatore determinante, Christobans, la sua assenza cambia tutto perché ci siamo preparati con lui, perché è un giocatore veramente atipico, oltre che Mancino, terzino destro, è altissimo, è molto forte, è un super difensore, quindi un giocatore di un altro livello che fa il gioco, per cui eravamo pronti su di lui, però meglio così perché noi possiamo giocare la nostra difesa.